Buon salve a tutti bookrooms, benvenuti o bentornati sul canale, io sono May e oggi come promesso wrap up di febbraio. Sarà un video un po' più professional, cercherò di parlare un po' meglio dei libri che vi andrò a presentare semplicemente per il fatto che rispetto al wrap up di gennaio non ho fatto delle recensioni complete su tutti i libri di febbraio quindi ce ne sono tipo solo due sul canale e gli altri sono un po' più da ghiacchierare, sono un po' più da discutere bene. Questo mese appena passato ho letto 4 libri e un pezzo, facciamo 5 libri perché fa fancy, ho letto 5 libri a febbraio. Sono contentissima perché praticamente tutti i libri che ho letto, tutti i libri di oggi mi sono piaciuti, alcuni più di altri sicuramente ma vi giuro non ce n'è stato uno che mi abbia deluso, comunque mi hanno dato tutti uno spunto di riflessione il voto più basso che ho dato sono state 3 stelline quindi daie e niente, quindi direi che possiamo partire e andiamo con la sigla Ho deciso di andare in ordine cronologico quindi vi parlerò dei libri che ho letto prima per poi andare a concludere con la lettura che ho concluso a fine febbraio davvero, cioè a due giorni dalla fine del mese però prima credo che sia meglio discutere, anche se poi l'ho finito più avanti nel mese, di Caliban e la strega che se avete visto il wrap up di gennaio è proprio il famoso libro che vi portava avanti da mese scorso, due mesi fa insomma Caliban e la strega di Silvio Federici è un saggio io sono particolarmente contenta di essere riuscita a leggerlo perché io con i saggi ho un rapporto molto difficile perché il mio cervello pensa sempre che siano roba da studiare quindi se io non prendo appunti, cosa che con Caliban e la strega ho fatto, non riesco a godermi un saggio e per me prendere appunti significa mettermi in là con gli evidenziatori e fare schemi quindi è stato un casino, ci ho messo un botto a leggerlo però alla fine l'ho finito e sono davvero super contenta perché è un saggio di quelli che non mi sarei mai aspettata di incontrare sul mio cammino come potete vincere dal titolo, Caliban e la strega parla di stregoneria per la maggior parte Silvio Federici si propone attraverso questo saggio di raccontare la caccia alle streghe ma soprattutto di raccontare le sue origini tant'è che la caccia alle streghe in realtà è solamente un capitolo e soprattutto non si ferma solamente al mondo europeo perché la teoria della Federici è proprio che la caccia alle streghe sia una conseguenza, sia tipo l'espluat del protocapitalismo di una accumulazione originaria che è iniziata nel tardo medioevo con la privatizzazione della terra conseguente anche all'abbandono dei feudi da parte dei contadini in favore delle città quindi anche con la nascita della classe borghese che poi ha trovato il suo apice proprio nella caccia alle streghe perché le streghe rappresentavano la sregolatezza nel senso di non c'era ordine rappresentavano un mondo che al capitalismo faceva scomodo perché era un mondo che non rispettava i ritmi del lavoro un mondo che si affidava al caso, che non si affidava alla materia e quindi al corpo che permetteva al corpo di essere svincolato dalla sua funzione di produzione al lavoro e soprattutto le streghe rappresentavano quelle donne che non si conformavano all'idea del genere che fa comoda al capitalismo di conseguenza era meglio eliminare tutte quelle donne che non facevano sesso per procreare perché semplicemente era quello il senso e che quindi vivevano la propria libertà, vivevano la propria sessualità e la propria indipendenza al di fuori degli schemi dell'accomunazione originaria ciò che poi ho apprezzato tantissimo è stato che Silvia Federici, come vi dicevo non si è fermato solo all'Europa per quanto riguarda la caccia alle streghe anche perché sappiamo bene che la caccia alle streghe più famosa il processo più famoso è stato il processo alle streghe di Salem quindi totalmente svincolato dall'autorità papale e della chiesa perché stiamo parlando dei puritani d'America e proprio all'America e soprattutto al colonialismo parlando dei nativi americani ma anche con un occhio rivolto verso l'Africa Silvio Federici dedica un capitolo che ci mostra come la caccia alle streghe come tutta quella teoria, quella istituzionalizzazione della caccia sia stata la base anche del colonialismo e quindi dell'idea dell'uomo colonizzato quindi del nativo americano o del nero d'Africa come un mostro e quindi della missione civilizzatrice dell'uomo bianco che penso tutti abbiamo presente è stato un romanzo davvero illuminante e io non mi sento nessuno per sviscerarlo e per raccontarvelo in sostanzialmente un piccolo slot di un video tanto meno mi sento qualcuno di abbastanza competente per andarvelo a raccontare per questo vi rimando alla live su Twitch di Ilenia Zodiaco perché come vi dicevo nel wrap up di gennaio io ho letto questo libro grazie al GDL letture stregate di Ilenia e sicuramente lei l'ha sviscerato meglio di me in un'ora a disposizione sicuramente lei ha le competenze maggiori per comprendere un saggio di questo genere però questo saggio è stato per me uno spunto di riflessione soprattutto uno spunto di studio sicuramente lo rileggerò magari più avanti magari con più attenzione quindi soffermandomi su quei dettagli che mi sono sfuggiti e chissà magari un giorno ve ne parlerò anch'io completamente ma è un saggio che comunque non è pesante è molto ripetitivo è vero ma ripetere le cose aiuta a far affondare il concetto quindi non c'è bisogno magari di tornare indietro cioè c'è un'enorme bibliografia ma quella bibliografia per esempio secondo me è più adatta ad un approccio successivo quindi voi potete leggere il saggio tranquillamente come se fosse una lettura di piacere e vi giuro che non ve ne pentirete perché apre un mondo sicuramente non sarete d'accordo come non lo sono stata io su tutte le teorie della Federici su tutte le cose proposte però ecco ne vale la pena io gli ho dato 5 stelline credo 4 stelline e mezzo e comunque è stato davvero bello e è stato anche uno spunto come stavo accennando per poter leggere altri saggi soprattutto sulla figura femminile e sulla figura della strega quindi adorato adorato tantissimo introdacciamo quindi le letture proprie del mese di febbraio e la prima se mi seguite da almeno un mese la conoscete bene perché è This Violent Delights di Chloe Gong un retelling della storia di Romè e Giulietta ambientato nella Shanghai degli anni 20 con un twist fantasy vi rimando alla recensione completa nelle schede qua su in alto però mi tengo un piccolo spazio per raccontarvi appunto di questo romanzo che per me è stata una rivelazione a gennaio io ho lessi la stirpe della gru e la stirpe della gru mi hanno buttato in un reading slime assurdo tant'è che io cercavo una lettura che mi potesse sbloccare una lettura di piacere cercavo il bookish boyfriend per un qualcosa di abbastanza leggero e quindi ho detto vabbè Martì hai This Violent Delights non lo leggere mai se continui così perché questo libro ce l'ho tipo in libreria da dicembre e non mi attizzava particolarmente e quindi mi sono detto prendi questo vedi com'è soprattutto perché ne avevo sentito parlare molto bene ultimamente erano uscite un paio di recensioni e contro ogni aspettativa mi sono trovata davanti un romanzo non solo molto bello ma anche molto approfondito perché? perché noi ci troviamo in un mondo in cui non sono i nobili i nostri protagonisti bensì i gangster quindi la malavita di Shanghai e soprattutto ci troviamo davanti una lotta di classe perché si portano avanti i temi del comunismo ed una lotta razziale perché non vi è solo la lotta tra le due gang che sono comunque una gang cinese proprio di Shanghai che è la gang degli Zai dei Kabuleti ma anche una gang russa formata da tutti coloro che sono venuti a Shanghai che era un portofranco prima della rivoluzione russa e poi successivamente dopo la rivoluzione boscevica e quindi ci troviamo in una lotta tra due gang con delle culture e delle opinioni completamente differenti ma soprattutto ci troviamo in una lotta tra coloro che vedono Shanghai come la propria patria russi compresi e i colonizzatori bianchi che hanno praticamente preso Shanghai e l'hanno resa una città occidentale impedendo l'accesso agli stessi abitanti cioè a Shanghai c'erano dei parchi negli anni venti in cui era vietata l'entrata ai cinesi e questo concetto è spiegato molto bene perché il nostro punto di vista principale è Juliette noi comunque seguiamo soprattutto Juliette quindi seguiamo un punto di vista cinese perché questo è un libro on voice perché l'autrice perché l'autrice è di origine shanghaiese comunque è nata a Shanghai e seppur non parlando benissimo la lingua come lei stessa afferma ha comunque conservato dei legami con la sua terra madre e quindi il punto di vista di Juliette che è anche il punto di vista di Chloe Gong ci aiuta ad inserirci in questo mondo fatto di ingiustizia e fatto anche di terrore perché appunto il twist fantasy è un mostro che sta terrorizzando la città dalle profondità del Huanpu River che è il fiume che attraversa Shanghai e Juliette è stato poi un personaggio sorpresa perché scordatevi la Juliette che comunque è un bellissimo personaggio anche nell'opera di Shakespeare però non fa moltissimo lei fa il ruolo della donna nobile anzi della ragazza nobile che aspetta il matrimonio e il suo atto di ribellione è proprio cercare di scappare con Romeo mentre invece in questo romanzo Juliette agisce Juliette ha un botto di armi addosso Juliette uccide Juliette prende l'iniziativa anzi cioè prende più iniziativa lei di Roma io ho detto tutto e quindi è stata davvero una sorpresa sono stata super contenta di aver ricevuto questo libro con la favorite loot quando ancora ero iscritta perché altrimenti me lo sarei persa e probabilmente non l'avrei neanche comprato se ne avessi sentito parlare quindi sono davvero contenta a settembre esce il sequel e io ero partita no non lo voglio leggere invece boom è divertente è di intrattenimento ma dà anche tantissimi spunti di riflessione e voi non avete idea ha anche delle scene abbastanza violente perché il mostro agisce in una mariera che è abbastanza da trigger warning perché oddio mi si è capolata era bene solo a pezzacci però va bene gli ho dato credo tre stelline e mezzo e se ne merita tutte peccato che Goodreads non abbia il mezzo voto secondo libro del mese di febbraio secondo libro che ho iniziato direttamente in questo mese Ficca il caffè caldo di Toshikazu Kawaguchi io l'ho preso un po' alla cieca per questioni astruse che non sto qui a spiegarvi e perché avevo visto la recensione sull'account instagram di chicche di libri siccome io mi fido abbastanza della sua opinione ho detto perché no ci proviamo soprattutto poi è un libro minuscolo si legge in pochissimo Ficca il caffè caldo potremmo inserirlo nella categoria del realismo magico cioè non è fantasy perché è ambientata in Giappone tranquillamente però comunque ha un twist magico perché parla di questo caffè di questo bar in cui è possibile viaggiare dietro nel tempo per una sola volta ci sono un botto di regole ma soprattutto la più importante è che si può restare nel passato finché il caffè è caldo altrimenti si rischia un destino abbastanza crudele e non si può neanche cambiare il presente però ovviamente questo non blocca certe azioni e io non vi posso raccontare appieno come questi viaggi nel tempo poi influiscono nella storia perché ovviamente si perderebbe il senso e sarebbe uno spoiler enorme però è stato davvero un libro sorprendente io e la letteratura giapponese non ci amiamo cioè nel senso io ho provato con Norwegian Wood di Haruki Murakami e non mi è piaciuto e sapendo che quello è tipo il romanzo più occidentale di Murakami io ho detto vabbè ci metto una pietra sopra però ho sempre voluto provare a dare una possibilità alla letteratura giapponese agli autori giapponesi che come unico ostacolo per me hanno il loro stile di scrittura che è effettivamente uno stile molto distaccato cioè non è uno stile che ha quei termini che prendono che ti avvolgono direttamente però comunque ti butta addosso tantissime emozioni tutte in una botta ed è overwhelming se non sei abituato se hai una mentalità occidentale che non è sbagliato cioè nel senso non è una cosa da criticare ovviamente perché la letteratura riflette anche la cultura e riflette anche il modo di pensare però ovviamente per abituarsi ad una cultura e ad un modo di pensare e scrivere così diverso ci vuole esercizio e finché Caffè Caldo mi ha fatto capire qual è la ragione di questa barriera che io sentivo verso Murakami che ho sentito anche verso questo libro e mi ha fatto dire beh posso continuare è comunque una letteratura molto leggera e tutta femminile soprattutto le donne di Kawaguchi sono dipinte in una maniera molto molto toccante a me sono piaciute tutte anche quelle in cui non mi identificavo specie mi è piaciuta tanto Hirai e devo dire che non me l'aspettavo non me l'aspettavo davvero mi aspettavo una cosa totalmente diversa tipo davvero viaggi nel tempo e cose strappalacrime invece mi sono ritrovata una profonda riflessione su quanto parlare quanto dire le cose che ci stanno a cuore faccia bene perché non sai mai cosa ti aspetta il futuro e quindi niente anche questo consigliato è anche questo un libro che sicuramente mi ha toccato in qualche modo anche se è fuori dalla mia comfort zone quindi grazie Toshikazu Kawaguchi terzo libro del mese di febbraio e qui ragazzi io vi contraddico da sola perché questo è stato il libro più bello del mese cioè proprio a mani basse ho dato 5 steline emotive vi giuro per quanto mi ha preso ci ho messo 3 giorni a leggerlo e sto parlando di fidanzati dell'inverno rewind vi presento la mail del passato e poi li discutiamo voglio iniziare il primo libro voglio continuare con il secondo ma state pur certi che questa saga se la finirò la finirò nel 2025 come il minimo ecco abbiamo capito perfettamente la situazione abbiamo soprattutto capito che mi rimangio tutto io questa saga la voglio finire non so quando non so come ma la finirò sto parlando quindi di fidanzati dell'inverno di Christelle Dabot una saga che è stata tantissimo chiacchierata l'anno scorso con l'uscita dell'ultimo libro che ha diviso il pubblico che ha deluso la gente ma che con questo volume parte a bomba per chi non conoscesse fidanzati dell'inverno tipo la sottoscritta e l'ha comprato alla cieca ci troviamo in un mondo che è letteralmente esploso e che si è suddiviso in tipo 26 mi pare giolle di terra che vengono chiamate arche quindi 26 binibondi ognuno con la sua differenza soprattutto la sua differenza magica e ognuno con uno spirito di famiglia quindi un antenato che ha portato la sua famiglia su quell'arca la nostra protagonista è Ophelia una ragazza dell'arca di anima appena uscita dall'adolescenza che ha due doni particolari in primo luogo è una lettrice quindi lei può leggere il passato degli oggetti tant'è che porta sempre i guanti per evitare di leggere il passato di tutto ciò che tocca e poi è un attraverso a specchi quindi è capace di passare attraverso gli specchi da uno specchio a un altro infatti la saga si chiama l'attraverso a specchi Ophelia viene promessa in sposa anche se non vorrebbe e contro tutte le tradizioni ad un uomo sconosciuto ma nobile di un'altra arca l'arca di Polo tale uomo è Thorne un gigante alto scrocchi a zeppi che io per tutto il romanzo ho voluto prendere abbatilate sulle gengive che è diventato ormai un hashtag perché tratta Ophelia a carpe in faccia però Ophelia se lo deve sposare e siccome lui ha un sacco da fa sull'arca dove vive Ophelia va con lui accompagnata dalla dalla zia che fa da chaperone fino al matrimonio perché infatti il mondo che viene presentato dalla Dabo è un mondo fortemente maschilista in realtà fidanzati dell'inverno è un po' la fiera dei cliché abbiamo il mondo maschilista in cui le donne non contano un cavolo abbiamo la protagonista che è una Mary Sue ambulante goffa che spacca tutto quello che trova che si mette nei guai e abbiamo lui che è tormentato però di primo acchitto uno dice ma che cacchio sto leggendo però la Dabo fa un lavorone perché prende questi cliché e dà una spiegazione certo si poteva creare una società matriarcale sì ci siamo ritrovati con la società patriarcale maschilista pace però per esempio c'è una ragione dietro alla goffaggine di Ophelia e c'è una ragione dietro al muso perenne di Thorne che non ci viene spiegata perché la nostra protagonista nonché a punto di vista è proprio Ophelia che viene cataputata in quest'arca in mezzo a illusioni cattiveri intrighi politici e gente che la vuole morta per nessuna ragione cosa che lei nella sua arca non aveva perché là è davvero la big big family cioè tutta la famiglia allargata tipo eww mentre su Polo ci sono diverse famiglie ci sono scontri la corte chi sta più in alto chi sta più in basso e Ophelia quindi viene cataputata in questo mondo e se provo a dire io non ho capito una cosa nessuno gli spiega mai un cazzo di conseguenza la cara Ophelia non è che ci può dare delle informazioni perché lei stessa non le ha queste informazioni e non è che Thorne o Berenid o tutti gli altri personaggi di Polo le spieghino qualcosa sta pora stella ovviamente questo è un enemies to lovers più o meno c'è presa la lontana comunque i due non si sopportano non si vogliono sposare e ovviamente è palese che questi due saranno la mainship ma in questo libro i loro due non c'è niente di scippabile cioè Thorne non sopporta Ophelia che la tratta pesci in faccia come dicevo prima Ophelia non sopporta Thorne neanche a dire che c'è una tensione sessuale tra i due ma anche no e questo è bellissimo perché tu li scippi col seno di Polo ma non li scippi adesso e non è che Ophelia fa la classica protagonista di Young Adult che lui è cattivo ma ce ne innamoriamo lo stesso quindi dai abbiamo una relazione che se cresce cresce con utilitario io non so il cavolo detto questo io conosco solo le fan art però in questo libro mi è piaciuto tantissimo soprattutto perché non me l'aspettavo io in realtà questo libro l'ho preso in scambio quindi non mi aspettavo niente me l'avevano offerto ho detto vabbè e sono andata che non sapevo niente di niente ma di niente cioè davvero conoscevo solo le fan art e l'ho letto in tre giorni quindi che vedevo dice io sono innamorata eppure io so che soffrirò col finale di Echie in Tempesta io non posso non amare questo libro e non posso non amare Ophelia perché Ophelia è una tenerona e bisogna proteggerla povera stellina cioè mi fa tanta tenerezza ogni atto è insopportabile ma mi fa tanta tenerezza e soprattutto è anche da identificarsi lei è anche da capire perché mettetevi nei suoi panni cosa avreste fatto io per esempio avrei fatto le stesse cose perché mi sarei spaventata tantissimo quindi non mi sento di inviasimarla e mi sento super vecchia perché io due anni fa l'avrei presa batirati in faccia peggio di torno però va bene ultimo libro che ho finito letteralmente il 26 febbraio venerdì 26 febbraio vi ho chiedere di Julian Orchis c'è la recensione sul canale uscita proprio sabato fresca fresca però come ho fatto per The Violent Delights ve ne parlo ve ne accenno questo libro mi è stato gentilmente inviato dall'autrice in cambio di una recensione e si tratta di un fantasy di ispirazione storica che copre la crescita del personaggio principale tale Igas che non è il tizio che vedete in copertina e che appunto parla della crescita di questo personaggio dalla sua infanzia abbastanza turbolenta perché dopo aver assistito all'assassinio della madre viene disonorato viene ripudiato dal re suo padre e inviato nell'Ergeseneo che è un altro di questi regni che prende un'ispirazione dall'antica Grecia dove viene cresciuto e allevato per essere il primo guerriero del principe Salai con il quale instaura una profonda amicizia un senso di fratellanza sono fratelli scelti loro due e poi crescendo dovrà affrontare assieme a Salai il pericolo di una guerra con il regno Iggdar che è un regno di barbari che si trova a nord delle montagne barbari che si sono riuniti da anni sotto il vestito di questo re dagli occhi verdi sconosciuto che porta sempre una maschera e che quindi stanno diventando sempre più potenti e minacciano di attaccare tutti i piccoli regni del nostro mondo mezzo greco come vi ho detto nella recensione questo libro ha i suoi pro e i suoi contro ma a me è piaciuto mi ha rovinato un po' l'esperienza di lettura e il fatto che fosse scritta in prima persona però ecco sono anche i gusti è un libro molto molto dettagliato va a raccontare molte cose della vita di Igas e soprattutto i personaggi Igas soprattutto cioè gli altri noi non ne sappiamo tantissimo fanno un'evoluzione davvero profonda e cambiano da così a così che è una cosa che ho profondamente apprezzato soprattutto perché ci presentano un personaggio che è che non si fa scrupoli a fare quello che fa pur se poi ci resta male per proteggere le persone che ama e che quindi mette in dubbio la sua stessa moralità come vi ho mostrato appunto nella recensione vi sto invitando a vederla non so se si fosse capito è anche un libro illustrato perché l'autrice ha messo alcune delle sue illustrazioni sono almeno una decina che sono bellissime a me sono piaciute tantissimo e quindi niente lo trovate su Amazon se avete intenzione di acquistarlo io vi ho dato tre stelline però secondo me molti di voi potrebbero apprezzarlo perché davvero ho fatto cioè comunque ho fatto con criterio anche se è autopubblicato quindi comunque ci sono solo gli sforzi dell'autrice dietro questo romanzo è il primo volume di una saga gli altri non so quando usciranno però insomma ve lo consiglio comunque io vi lascio il link qua sotto bene bookworms il video di oggi finisce qui io vi ringrazio di essere stati qui con me vi lascio qua sotto il link all'acquisto di tutti i libri in italiano tranne per di Svion and Delights se vi interessa la lingua originale della traversa specchi è il francese quindi se qualcuno di voi legge il francese conosce il francese vuole fare un po' di pratica potete trovarlo tranquillamente in lingua originale sicuramente sarebbe una bella esperienza fattevi sapere poi già che ci siamo se vi piacerebbe sentirmi parlare della mia esperienza con la lettura in lingua degli alcuni consigli insomma se vi piacerebbe vedere l'argomento su questo canale così almeno mi organizzo per scrivere una cosa sensata e un po' meno abbraccio e vi ricordo che nelle schede trovate il link alle recensioni mentre qua sotto trovate il link a tutti i miei social quindi Instagram Goodreads il mio blog e la mia mail se vogliamo rimanere in contatto se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un piccolo like per aiutarmi con l'algoritmo e se i miei contenuti vi piacciono vi invito anche ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella se non volete perdervi nessun nuovo video io vi saluto vi auguro una buona settimana un buon tutto mercoledì non mi ricordo quando uscirà questo video però insomma vi mando un grande bacione e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao